Malesi ha meno tasse per le transazioni immobiliari. Il governo Malesi ha deciso di rimuovere la tassa di proprietà sulle transazioni immobiliari. Questa iniziativa, in combinazione con i nuovi incentivi recentemente approvati, è stata sviluppata per rendere il mercato immobiliare più efficiente ed incoraggiare maggiori investimenti stranieri. In precedenza, gli stranieri proprietari di immobili o terreni venivano tassati del 30% sulle vendite. Già dal 2006, con l'introduzione del programma Malaisia My Second Home, il governo Malesi aveva introdotto alcune liberalizzazioni. Tra queste, l'acquisto senza approvazione preventiva di proprietà con valore superiore ai 55.000 euro, la possibilità di acquisto di più di una proprietà e la sua destinazione d'uso diversa dalla residenza personale.